Sono circa 1300 i cani avvelenati nel mese di novembre, i dati sono stati raccolti e riportati dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDA, dall'analisi degli articoli di giornale e dalle pagine social, critica la situazione in Calabria dove sono stati registrati circa 40 cani avvelenati, alto anche il numero dei cani uccisi nella provincia di Catanzaro, recenti le vicende avvenute nella provincia con numerosi casi di avvelenamento a Falerna. I casi, prendendo in esempio i dati di tutta Italia, riguardano principalmente i cani di tartufo, secondo una nota di AIDA sono infatti circa una trentina quelli avvelenati a San Pietro Avellana, dove appare evidente che gli avvelenamenti possono richiamarsi ad una lotta tra tartufai o all'azione di un folle. Gli altri avvelenamenti sono avvenuti in maniera sparsa e purtroppo abbastanza univoca in tutto il territorio italiano, con punte in Calabria, Sicilia e Campania.